Inizia la finale di Monica Dolce Contra una ragazza dalle strane dimensioni Grande Monica! Due punti per Monica No, nessun punto Nessun punto per Monica Vai Monica! Brava Monica! Monica, la parte è pressivissima Vai Monica, parati! E lei è la migliore Vai Monica! Vai Monica! Svantaggio Alta le gambe! Vai Monica! S'è la più forte! Vai Monica! Vai Monica! Monica! Grande Monica! Vai Monica! Vai Monica! Grande, vantaggio di Monica Due a uno E' incoraggiata Monica Per mostrare la soffressiva Due pari Vai Monica! Vai Monica! Vai Monica! Vai Monica! Vai Monica! Vai! Rimonta! Brava! Tre pari! Pareggio! Tre pari! Vai Monica! Bravo! Bravo! Vai Monica! Arbitro! Arbitro! Vuole un consulto! Grande Monica sta andando benissimo Gli arbitri Non vogliono darmi a cintura Non vogliono darmi a cintura Non farmi fare commenti Che questo video andrà su YouTube Ma non può C'è la colpita sopra Ricordate Andate su www.kickboxdinapoli.it E guardatevi l'incontro di Monica E' la sua prima gara Vai Monica! Vai Monica! Vai! 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 Brava! Vantaggio temporale Quattro pari Una sfida Infioribile Sono stati fatti otto punti Vai! Muoviti! Monica! Brava! Brava! 5 e 4 Vai Monica! Muoviti! Muoviti! No Cinque pari Vai Monica! Una sfida Vai! Saltatissimo E sono tre punti Vai! Brava! E vieni! Vai! Si guarda in vantaggio Sei in anticipo Vai! Sì ma questo è un mobilito Questo è un mobilito E' sotto Ma cos'è? Ho promesso di non fare commenti su questa qua Ma questo è... E' mobili Ma che ce l'hai? E' la ballena nera Vai Monica! Grande! Vantaggio di 2 punti 8-6 per Monica La nostra dolce nera Muoviti! Muoviti! La nostra dolce nera Vai Monica! Il primo posto Monica dolce Primo posto qui a Nettuno Vicino Roma E' il suo E' il suo Grandissimo Prima vittoria Prima vittoria Prima vittoria Per Monica Grandissima Grande Monica Grandissima Primo posto Monica dolce Prima vittoria Prima vittoria Prima vittoria